La conferenza stampa di stamattina che il Movimento 5 Stelle ha convocato qui in sala consigliare è stata convocata in merito alle dichiarazioni fatte dal direttore dell'ASL 2 Umbria, Sandro Fradini, avvenute giovedì scorso durante la seconda commissione consigliare riguardanti i dati delle analisi delle diossine del PCB svolte dall'ASL su commissione del Ministero durante il periodo che va dal 2011 a quest'anno, al 2014. Nei mesi scorsi il Comune di Terni tramite l'ufficio igiene, tramite l'assessore all'ambiente ha più volte comunicato di non essere in possesso dei dati di queste analisi. Durante la seconda commissione di giovedì scorso il direttore dell'ASL ha affermato invece che il Comune ne era in possesso, ne era a conoscenza sin dall'autunno 2013. Quindi ci poniamo delle grandi domande su come sia possibile che su chi in questo momento non stia dicendo la verità, non stia dicendo ciò che corrisponde al vero e ci poniamo delle domande in merito all'attivazione da parte delle istituzioni locali obbligatoria secondo le normative europee, secondo le normative vigenti, su un costante superamento dei limiti d'azione per quanto riguarda questi due inquinanti, il PCB e la diossina. La diossina la conosciamo tutti, sappiamo benissimo quali sono le conseguenze sulla salute umana. In alcuni casi, come ad esempio per quanto riguarda le uova, gli allevamenti adiacenti alla discarica di vocabolo valle, siamo con superamenti del limite di allarme, addirittura di sei volte quello che è il limite di legge. Questo ovviamente richiede un'immediata azione da parte del sindaco che è il primo responsabile della salute pubblica all'interno di un comune.